Ciao e ben ritrovato sul mio canale. Oggi avevo intenzione di parlarti di un argomento di cui invece non ti parlerò. Ho cambiato idea e ti parlerò degli ostacoli. Mentre cercavo di preparare la registrazione di questo video è scattata più volte la sirena in un appartamento qua accanto. Praticamente questo allarme è andato avanti per un bel po' e la cosa curiosa è che ci ho messo un po' oggi a decidermi per fare questo video. Ero stanca, deconcentrata, però sentivo che dovevo farlo. Comunque ho combattuto un po' con me stessa, un po' con la pigrizia. Alla fine quando mi sono decisa e motivata finalmente per fare il video ho piazzato il telefono qua davanti, mi sono seduta sul divano ho fatto un respiro profondo e ho detto va bene, adesso comincio a fare la registrazione ed è partita questa sirena. Questo mi ha dato l'idea per trattare un argomento per questo video che non è appunto l'argomento che avevo deciso di trattare inizialmente e di cui vi parlerò un'altra volta, adesso non vi anticipo nulla. Bensì è l'argomento degli ostacoli. Io credo che vi sia capitato delle volte che quando finalmente trovate la motivazione, vi mettete in testa di fare delle cose, superate resistenza, pigrizia, paure, ecco che appunto appena prendete la decisione, appena prendete la forza di fare qualcosa, escono fuori intoppi di ogni tipo. Finalmente vi decidete di mettervi a dieta per esempio e improvvisamente vi vengono a trovare i parenti da Napoli, si mettono in casa per due settimane e decidono di cucinare tutto il ben di Dio dalla mattina alla sera. Oppure prendete coraggio per proporvi per un nuovo tipo di lavoro, state lì che aspettate i giorni e giorni oppure anche settimane, tutto sembra indicare che avete diritto a chiedere, come dire, di partecipare a quel nuovo progetto lavorativo e poi la mattina arrivate e trovate il capo o la persona determinante per inserirvi in questo progetto lavorativo che vi parla tutto entusiasta di come ha trovato una nuova persona che appunto risolverà le cose per il nuovo lavoro ed è quello che stavano cercando. Quindi come dire un segnale che praticamente se volevate voi proporvi e farvi avanti giustamente interpretate questo segnale come un invito a non farlo. Così come la presenza dei parenti abili con la cucina e mangerecci sembra un invito a lasciar perdere tutto quello che riguarda la dieta. Altri esempi su intoppi e ostacoli di questo tipo sono per esempio quando decidete di andare a correre la mattina, di dedicarvi allo sport all'aria aperta e arrivano due mesi di maltempo, diluvio, pioggia oltranza. Un altro esempio magari è quando finalmente prendete come dire il coraggio o la decisione di dichiararvi a una persona che vi interessa la invitate a casa vostra per una cena. Avete programmato delle pietanze deliziose da cucinare e da servire, avete già scelto un sottofondo musicale adatto per l'occasione, però salta la corrente e non riuscite a cucinare, non riuscite a creare l'atmosfera oppure vi chiama la persona che state aspettando e vi dice che farà tardi, anzi non sa se riuscirà a passare e questo crea rallentamenti e contrattempi e sicuramente rovina la piacevolezza della serata. Potrei farvi centinaia, migliaia di esempi tutti con la stessa caratteristica, cioè voi finalmente vi decidete di fare un'azione, decidete di fare quel passo in avanti e poi nel momento in cui siete pronti a farlo e scendete in campo succede di tutto. Dico di tutto perché a volte si ha proprio l'impressione che l'universo intorno non collabori. È un caso questo? La mia risposta è sia sì sia no. A volte è davvero per caso, la vita è fatta di situazioni che hanno una causa e situazioni che semplicemente accadono e questo ci deve tranquillizzare e spingere semplicemente a riprovarci e a persistere. Altre volte invece non è un caso. cosa succede quando non si tratta di un caso? Perché accade questo? È difficile da spiegare con parole razionali, cercherò di comunque trasmettere il concetto. Il punto è che noi viviamo immersi in una realtà che si manifesta in quel determinato modo perché le informazioni che si trovano dietro quella manifestazione sono di quel dato, sono di un certo tipo e sono quelle predominanti. Se fino ad ora abbiamo vissuto determinate realtà è perché l'informazione che sostiene quella realtà è stata predominante. Nel momento in cui cambia il potenziale manifestativo di quella realtà, a sua volta cambierà la realtà stessa. Se io voglio mettere in atto delle nuove decisioni, dei nuovi comportamenti significa che sto introducendo delle nuove informazioni e che queste informazioni faranno pressione per emergere, per spingere e far emergere la realtà che corrisponde loro. Ora la realtà attuale se esiste, si è manifesta significa appunto che ha alla sua base un carico di informazioni che ha un certo peso, che è stato predominante fino a ora e quindi non è così facile scansare queste informazioni e questa realtà. Passatemi una metafora, è come se ci fosse il sovrano di un regno che ha le sue regole e che sono quelle. Poi a un certo punto arriva un altro sovrano che vuole imporre delle nuove regole e quindi imporre un nuovo regno. All'inizio tutto questo significa che ci sarà uno scontro. Lo scontro è inevitabile, è nella natura della realtà. Quando tu vuoi introdurre dei cambiamenti, la realtà attuale si oppone e si scontra con quella del cambiamento. Quindi non c'è da spaventarsi, come dicevo prima è tutto perfettamente normale, bisogna perseverare, avere fiducia e darsi da fare. Se il tuo intento non è deciso, se tu non sei sicuro del cambiamento che vuoi introdurre, se non sei disposto a lottare per far sì che il nuovo regno sostituisca il vecchio regno di realtà, probabilmente resterai nella realtà di sempre. Il consiglio in questo caso è di persistere, però attenzione, persistere con intento e con fiducia, non lottando e andando contro quello che succede. Bisogna, come dire, non dare importanza agli ostacoli che emergono, a tutti i vari intoppi. Bisogna considerarli che possono accadere, quindi ah, ecco qua degli ostacoli, era previsto, era previsto perché io sto cambiando la mia vibrazione, sto mettendo in moto dei nuovi comportamenti, delle nuove abitudini, sto osando di fare nuove scelte, quindi va bene, quindi qualche ostacolo può apparire, non ci faccio caso, non mi faccio spaventare, persisto, persisto, tengo fermo l'intento e tengo ferma la mia fede. Tutto questo ci dice che gli ostacoli non indicano che la strada che stiamo prendendo è sbagliata, anzi paradossalmente potrebbero indicare che la strada che vogliamo intraprendere è proprio quella giusta, perché pensateci bene, quando dovete prendere una strada che è in discesa, dove vi trascurate, dove vi lasciate andare, dove le cose peggiorano, di solito non trovate nessun ostacolo, nessuno vi ferma, è tutto più facile, ci vuole un attimo a rovinare la propria vita, a prendere una via sbagliata, ci vuole davvero poco e lì normalmente non si attivano ostacoli, magari incontrate facilmente delle persone distruttive, magari vi sentite subito pigri e stanchi e tralasciate le routine costruttive che avevate costruito fino a quel momento, magari vi prende facilmente il demone del gioco e buttate via tutti i vostri soldi, ci vuole, purtroppo è brutto da dire, però davvero ci vuole poco, se voi non vigilate con la vostra coscienza, se voi non restate svegli, ci vuole poco e nessuno vi fermerà, nessuno vi metterà ostacoli davanti, anzi potrebbero apparire tentazioni di ogni tipo, gli ostacoli si attivano quando c'è la possibilità di fare un passo in avanti, quando c'è la possibilità di cambiare frequenza dentro di noi e quindi anche fuori e quindi il fuori un po' combatte questo cambiamento perché i cambiamenti normalmente è così, non piacciono a nessuno, i cambiamenti sono comunque una dichiarazione di guerra, un di scontro con le vecchie frequenze, bisogna quindi trovare il modo di sostenerli, di battersi per essi, di nutrirli e di persistere di modo che prima o poi la nuova realtà sarà accettata. Non tutti gli ostacoli, non tutti gli intoppi naturalmente indicano che la strada è giusta, adesso non voglio fare il ragionamento opposto. È vero che ci sono ostacoli e intoppi che ci devono far riflettere se quello che stiamo facendo è davvero nelle nostre corde. Diciamo che per capire la differenza tra quegli ostacoli che accadono perché stiamo cercando di fare un cambiamento positivo ed evolutivo e quegli ostacoli che invece si manifestano perché in realtà stiamo su una strada che non è concorde con il nostro cuore e con la nostra anima richiede di ascoltare se stessi e di conoscersi. Abbiamo sempre dentro di noi il sentore che quell'ostacolo sta sfidando il nostro che possono diventare più grandi. Oppure che quell'ostacolo arriva e ci blocca proprio perché in realtà siamo noi che stiamo bloccando noi stessi, magari assecondando delle logiche che in realtà non ci appartengono. Una caratteristica degli ostacoli che sono evolutivi e che suggeriscono di persistere continuare a lottare per superarli e affermare una nuova realtà è che ci fanno sentire in qualche modo più grandi. Il fatto stesso di affrontarli, il fatto stesso di guardarli in faccia, di considerarli. Noi sentiamo che questo aumenta la nostra energia, sentiamo che stiamo combattendo per qualcosa che ne vale la pena, per qualcosa che è vero, per qualcosa per cui potremmo avere anche molti dubbi. Però non stiamo tradendo noi stessi, noi stiamo facendo un tentativo su una strada perché ci sentiamo chiamati da quella strada. Quell'ostacolo magari ci può portare dello sconforto però non ci fa sentire che stiamo tradendo noi stessi, che ci sta in qualche maniera avvertendo che stiamo sbagliando. Se ci ascoltiamo bene l'ostacolo sembra volerci dire no questa cosa non la devi fare, è troppo pesante, chi ti credi di essere, cose di questo tipo. Sembra volerci dire quella cosa ma queste sono le vocine negative che emergono ed emergono proprio perché a volte la trasformazione verso qualcosa di più grande spaventa. Spaventa noi stessi, spaventa la nostra personalità, spaventa anche quelle energie che abbiamo intorno che magari vorrebbero tenerci piccoli e impauriti e giustamente hanno paura che noi diventiamo più grandi, più autonomi, più capaci. Gli ostacoli che invece ci troviamo ad affrontare laddove ci siamo messi su un percorso che non ci appartiene, volevamo far contenti i genitori, abbiamo studiato legge quando magari volevamo fare gli archeologi, ci siamo messi insieme a un partner perché ci sembrava più conveniente la situazione ma non è proprio quello che ci faceva battere il cuore, tutti gli esempi che volete. Comunque questo genere di ostacoli, complicazioni, situazioni eccetera in genere mettono a dura prova i nostri nervi e ci fanno sentire particolarmente frustrati perché noi sentiamo di non avere veramente nel profondo la forza per affrontarli. Perché non abbiamo questa forza? Perché noi stiamo affrontando gli ostacoli di un percorso che non ci appartiene e quindi non dureremo a lungo, potremmo sviluppare addirittura degli esaurimenti nervosi per non dire dei problemi di salute, potremmo rinchiuderci, sviluppare atteggiamenti negativi oppure incorrere in intoppi economici, intoppi di vario tipo che sono espressione del fatto che noi non ci stiamo curando della nostra vita, non ci stiamo curando della nostra verità. Ricapitolando, quando ci sono degli ostacoli che mi sfidano a diventare più grande e appartengono al mio percorso, io quegli ostacoli so che se voglio li posso affrontare e so che se li supero io sarò più felice, sarò più nella gioia o perlomeno più nella forza perché sono ostacoli che appartengono alla verità del mio percorso. Quando ho a che fare con ostacoli che riguardano una vita che non mi appartiene, che non ho scelto, dalla quale mi sono fatta scegliere magari, ma che io non ho scelto, quegli ostacoli diventano insopportabili, diventano davvero pesanti e ci esauriscono al limite delle nostre forze e possono anche farci ammalare o farci degenerare nei nostri comportamenti, nelle nostre scelte. A volte la differenza tra questi due tipi di ostacoli non è così netta, però se noi ci ascoltiamo nel profondo, noi sentiamo che se superassimo quell'ostacolo che abbiamo davanti, saremmo fieri di noi, saremmo felici, mentre quando superiamo l'ostacolo che è su un cammino che non ci appartiene, alla fine vorremmo semplicemente non averci a che fare, vorremmo avere tutto sotto controllo e non ci interessa di combattere quelle battaglie, perché sono battaglie che non fanno per noi, sono battaglie che in realtà non abbiamo scelto, forse le abbiamo subite, ma non le abbiamo scelte. Quindi ecco tutto quello che volevo dire sugli ostacoli è questo, quindi attenzione, gli ostacoli ci sono anche se la strada è giusta e il modo migliore per affrontarli è essere consapevoli di dove vogliamo arrivare, essere consapevoli che quell'ostacolo si trova sulla strada che noi vogliamo superare e soprattutto non andarci contro. Bisogna fare un po' come il fiume con le sue acque che passa intorno alle rocce che incontra, in maniera sinuosa le supera come le canne di bambù che non si oppongono al vento ma si piegano. Gli ostacoli perdono energia se tu gli giri intorno e persisti con il tuo interno e guardi oltre. Se invece ti soffermi sugli ostacoli, guardi a loro, li vuoi combattere, rischi di infognarti in una battaglia dove per forza perderai perché ciò a cui dai attenzione cresce e si rinforza. Se tu dai attenzione agli ostacoli, oddio come faccio a superare questa cosa, oddio è sempre così, oddio è difficile, oddio su, oddio giù, qualunque cosa voi dite o vi focalizzate sopra, quella cosa prende attenzione, diventa il centro della vostra energia. Allora capita un ostacolo e la cosa migliore è ok, io vado avanti. La cosa migliore è dirsi ok, posso superare questa cosa, è agire ok, io posso farcela, ok io persisto, ok non mi faccio intimorire, io so dove voglio arrivare e arriverò lì, oltre l'ostacolo e prima o poi l'ostacolo dovrà arrendersi e prima o poi la nuova realtà dovrà arrendersi al fatto che io la voglio e la voglio e oltre la vecchia realtà che ha fatto il suo tempo. Io ringrazio la vecchia realtà per esserci stata, ma adesso sono pronta per fare i miei passi avanti, sono pronta ad affrontare gli ostacoli che questa iniziazione comporta e lo farò. E allora benvengano tutti gli ostacoli che permetteranno di dimostrare a me stessa e alla realtà che io sono pronta per vivere in una nuova realtà, in una nuova frequenza.